Ciao bambini e bentornati! Oggi giocheremo con Doggy-Doo e giocheranno insieme a noi, Bing! Ciao bambini! Poi c'è Splash! Ciao bambini! Bentornati! E poi ci sono Peppa e Gekko! Ciao a tutti! Ciao bambini! Ma sbaglio o questo? Insomma... Sì Bing, è proprio ciò che stai pensando! Infatti si tratta di un cane abbastanza birichino! Ma vediamo il retro della scatola! Ecco qui! Bisognerà girare una ruota che con dei numeri ci indicherà quante volte schiacciare sul guinzaglio del nostro cagnolino! Gli daremo anche da mangiare! Ma ovviamente dopo avergli dato da mangiare il nostro cagnolino potrebbe fare dei bisognini! Il primo che riuscirà a collezionare tre bisognini, beh, vincerà! Oh! Sembra molto curioso come gioco! Sono davvero impaziente di vedere, insomma, questa challenge! E allora io direi di preparare il gioco così poi capiremo meglio come funziona! Non ci posso credere! Un cagnolino che va a fare, insomma, quelle cose dappertutto! Sì, e la cosa assurda è che noi dobbiamo collezionarle! Ah, sì, tutto questo è molto strano! Ma io adoro i cagnolini! Guardatelo, che bello! Forza, andiamo! Ma com'è carino! Eh già, Dogidoo è proprio un cagnolino carinissimo! Guardate che osso grande che ha in bocca! E questa lingua! Ma non dimenticatevi che Dogidoo è un po' birichino! Ah, certo! Qui vedo un cestino e una paletta! Oh, ho capito già cosa dobbiamo fare! Oh, dovremo raccogliere i bisognini e buttarli via, immagino! Certamente, farete proprio così! Come vi ho detto prima, lo scopo del gioco è riuscire a collezionare tre cacchine di Dogidoo! Insomma, lo farete girando questa ruota! A seconda di ciò che uscirà, ad esempio un 2, voi schiaccerete il guinzaglio per due volte! Dogidoo dopo un po' inizierà, insomma, a fare i suoi bisognini! E il giocatore che riuscirà a collezionarne tre, vincerà! Oh, fantastico! Direi di iniziare! Io ho capito tutto! Beh, anch'io, mi sembra molto chiaro! Iniziamo allora! Beh, visto che siete disposti in questo modo, farei iniziare Splash, Bing, Peppa e Gekko! Va bene, non c'è problema! Splash, tocca a te! Allora, vediamo un po'! Uno! Ah! Ecco qui il guinzaglio! Allora, schiaccio una volta! Uno! Avete sentito che rumore ha fatto? Sì, ha fatto un rumore stranissimo! Tre! Bravissimo, Bing! Che fortuna! Tieni! Uno! Due! Tre! Mi fa tanto ridere! Ma non è che si vede già qualcosa? No, no, no! Ancora nulla! Oh, Peppa! Non si fa! Scusate, mi ero curiosa! X! Salto il turno! Non ci posso credere! Gekko, tocca a te! Vediamo un po'! Uno! Ok, meglio di nulla! E allora, schiaccio una volta! Uno! Che suono! Che suono stranissimo! Tocca a me! Vediamo un po'! Uno! Ecco qui! Uno! Oh, che ridere! Tocca a me! Vediamo! Tre! Fortunatissimo! Tieni, Bing! Allora! Uno! Due! Tre! Oh, che peccato ci speravo! Peppa, tocca a te! Finalmente! Ero così impaziente di giocare! Uno! Tieni, Peppa! E? Uno! Oh, no! Non è successo nulla! Gekko! Arrivo! Allora, vediamo un po'! Tre! Ecco qui, Gekko! Dai, forse ci siamo! E... Uno! Due! Tre! Oh, oh, oh! Ancora nulla! Ma secondo me tra poco accadrà qualcosa! Tocca a me! Allora! Vediamo! Uno! Tieni, Splash! E? Uno! Oh, non è caduto nulla! Dai, ci siamo quasi! Oh! Uno! Ecco qui! Uno! Oh, no! Ancora niente! Eh? Uno! E? Uno! Oh, no! Oh, oh, oh! Forza, forza! Due! E? Uno! E? Due! Oh, è uscito qualcosa! È proprio lì! Sì, Gekko, è uscito, ma non è caduto! Quindi non hai vinto! Oh, no! Oh, forse vincerò io! Ora per me dovrebbe essere facile! Oh! Uno! Forse basterà anche solo una volta! Ecco qui, Splash! E? Uno! Oh, no! Oh, pensavo avresti vinto, Splash! Oh! Due! Oh! Complimenti, Bing! Ma ora devi raccoglierla! Eh! È disgustoso! Ecco qui, Bing! Oh! Eh! Ma scivola! Oh! Oh! Ecco! Ed ecco il cestino, Bing! Ecco qui! Oh! Ma qui ci sono dei gettoni! Sì, Bing, perché tu ne hai vinto uno, avendo, insomma, collezionato una cacchina! Oh! Evviva! Ora siete pronti a ricominciare! Vi ricordo che Vince è il primo che ne colleziona ben tre di cacchine! Oh, certo! Tocca a me! Spero di vincere questa volta! Uno! Uno! Tocca a me! X! Salto il turno! Ah! Non è possibile! Oh! Mi spiace, Gekko! Hm? Tre! E... Uno! Due! Tre! Oh! Tocca a me! Due! Uno! Due! Vediamo un po'! Due! Uno! Due! Tocca a me! Uno! E... Uno! Ahahahah! Che rumori! Oh, speriamo di vincere! Oh! Uno! 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 Oh no! Vuoi vedere che vince ancora Bing? È proprio lì! Si è fermata proprio lì! Oh no! Sono fortunato in questo gioco! Vediamo! Tre! E... Uno! Due! Oh! Che salto! Eccola qui, Bing! Ah! L'hai presa in mano! Ma volevo far vedere che insomma è tutta gommosa! Oh! Comunque mettiamola nel cestino! Ecco qui! Bing! Aspetta! Ti devo dare un gettone! Ecco qui, Bing! Sei al secondo gettone! Complimenti! Ahahahah! Oh, Bing! Questo è proprio il tuo gioco! Sei veramente fortunato! Tre! Uno! Due! Tre! Ahahahah! Ci provo io! Oh! Due! E... Uno! Due! C'è da dire che fa dei rumori veramente assurdi! Vediamo! Salto il turno! No! Eccomi! Oh! Uno! Mmm! E... Uno! Ahahahah! Bing è troppo divertente! Due! E... Uno! E... Due! Oh, forza! Vorrei vincere! Oh! Due! Uno! E... Oh! Si è bloccata! No! Oh! Forse vinco io! Due! E... Uno! E... Splash! Eccola qui! Sarà meglio buttarla! Ecco qua! Hai vinto! Un gettone! Oh! Fantastico! Tocca a me! Uno! E... Uno! Mmm! Tocca a me! Tre! Uno! Due! Tre! Tocca a me! Vediamo! Uno! E... Uno! Ahahahah! Oh! Forza! Forza! Uno! E... Uno! Ma... Vediamo! Ma non penso proprio di vincere! Uno! E... Uno! Oh! Forza! Forza! Vediamo un po'! Uno! Mmm! E... Uno! Ci provo io! Uno! Uno! Oh! Oh! La intravedo! Guardate! Oh! Oh! È quasi uscita! Ahahahah! Uno! Uno! No! Oh! Cosa? Ma forse potrei vincere io! Oh! Uno! Ahahah! Uno! Oh! Ecco qui! L'ho recuperata! E... Sarà meglio buttarla! Mmm! Ecco fatto! Ma Bing! Hai vinto un gettone! Ora ne ho tre! Quindi ho vinto la challenge! Sì, Bing! Hai vinto! Ahahah! Complimenti! Ahahah! Bravissimo, Bing! Ahahah! È stato un gioco divertentissimo! E allora, ancora complimenti, Bing, per aver vinto questa challenge! E voi vi siete divertiti? Certamente! E allora, grazie per aver giocato assieme a noi e a DoggyDoo! Ed ora lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!